Allora, benvenuti a chi è qui in sala, benvenuti a chi ci seguirà nel canale della Maker Faire Romero Pian Edition. Questo è il secondo cortocircuiti, che è un cartellone di 20 incontri all'interno di queste tre giornate. E nel secondo incontro, dopo aver visto le donne nella robotica, quindi la robotica declinata al femminile, adesso di fatto andiamo in movimento, ci spostiamo e il viaggio lo facciamo di fatto in mobilità, in treno, in auto e nello spazio. Anticipando lo spazio, quindi vi presento di fatto Giovanni Delisi, Green Rail, Renato Panesi di Orbit e Filippo Sala, Ferrari Solare. Ci sono tre loro relazioni sulle cose straordinarie che stanno facendo di fatto con le loro start-up e ci consentiranno di viaggiare in una nuova modalità di mobilità sostenibile e in un'ottica anche di maggiore velocità. Poi arriveremo nello spazio per capire quello che si sta facendo con il Made in Italy come eccellenza nel mondo. Il primo a relazionarci è Giovanni Delisi con Green Rail. Seguirà subito dopo Renato Panesi di Orbit. Chiuderà Filippo Sala, Ferrari Solare. Prego. Grazie Gianpaolo, grazie innanzitutto per l'invito perché è veramente un piacere partecipare alla Maker Faire in qualità di relatore e nell'Ariopian Edition di quest'anno in qualità di appena adesso vincitorio dell'Osme Instrument fase 2 di Horizon 2020. Green Rail è una start-up che è nata nel 2012 dalla mia esperienza di lavoro. Io ho cominciato nei cantieri di armamento ferroviario o meglio costruzione e manutenzione di linee ferroviarie. Abbiamo progettato una traversa ferroviaria ecosostenibile fatta da materiale riciclato, climatici fuori uso e plastica da riciclo. Le traverse ferroviarie, per chi non le conoscesse, sono quelle strutture che compongono i binari e che anticamente erano in legno. Oggi lo standard mondiale che rappresenta un mercato da circa 8 billion nel mondo con un consumo medio annuale di 80 milioni di pezzi esclusivamente per la manutenzione delle linee ferroviarie e costituito dalle traverse in calcestruzzo. Green Rail è una traversa che internamente ha una struttura in calcestruzzo armato precompresso esternamente invece ha una copertura in plastica e gomma riciclata una miscela che abbiamo studiato con il nostro partner Politecnico di Milano e che va a contribuire a quelli che sono la riduzione dei costi di manutenzione delle linee ferroviarie e inoltre consente di riciclare svariate tonnellate di plastica e pneumatici fuori uso per ogni chilometro di linea. L'idea nasce da quello che sono le problematiche dell'attuale standard, quindi della traversa in calcestruzzo. La traversa in calcestruzzo per problematiche di rigidità, legata alla rigidità, polverizza il ballast, il ballast è quel pietrisco che sta al di sotto delle linee ferroviarie e che è una parte fondamentale della linea perché mantiene l'allineamento altimetrico dei binari. Considerate che ci sono alcune linee ferroviarie, soprattutto ad alta velocità, che hanno necessità di essere livellate ogni notte e tutto questo si traduce in costi di manutenzione elevatissimi che specificatamente, essendo la maggior parte delle linee ferroviarie mondiali pubbliche, alla fine sono costi per la collettività. Per risolvere questa problematica hanno abbinato alle traverse in calcestruzzo un tappetino in gomma, peccato che fa lievitare il costo di acquisto di un prodotto di quasi il 30-40% in più. Green Rail, utilizzando materiali al riciclo, va ad abbattere anche quello che è il costo di acquisto del prodotto in fase iniziale, ha una maggiore durata in opera e contribuisce a smaltire 35 tonnellate fra pneumatici e plastica ogni chilometro. Quindi contribuendo e dando un parametro di sostenibilità ambientale nettamente superiore rispetto al nostro principale competitor. La struttura, come dicevo, è composta internamente da calcestruzzo, esternamente plastica e gomma riciclata. Abbiamo testato più di 70 miscele in questi due anni insieme al Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano e delle società private partner. Ogni chilometro va a consentire di riciclare 35 tonnellate e ciò consente anche nei mercati in cui andiamo ad accedere di mettere in moto un processo virtuoso di Circular Economy. E non solo diamo un prodotto che tecnicamente a livello ambientale è superiore al cliente, ma consentiamo al sistema paese di avere un prodotto che consente di riciclare pneumatici e plastica. Soprattutto i pneumatici sono un grosso problema ambientale oggi. E non esistono prodotti ad oggi che hanno questo tipo di consumo di materiale. Green Rail, rispetto a quelli che sono i nostri competitor, questa fa vedere quali sono i vantaggi in fase di acquisto e per tutto il ciclo di vita della linea ferroviaria. Riduciamo inoltre anche le vibrazioni e la velocità, che è un altro problema di inquinamento legato al trasporto ferroviario. Oggi quelli che sono gli obiettivi entro il 2050 della Unione Internazionale Schemendefer è la riduzione appunto della rumorosità delle vibrazioni, dei costi di manutenzione e l'uso sino al 50% dei prodotti di consumo in materiale sostenibile. Dal progetto Green Rail, che oggi è brevettato in 122 paesi nel mondo, sono nati altri tre progetti di ricerca, sui quali abbiamo ottenuto appena adesso il finanziamento da parte di Horizon 2020 come unica start-up del settore trasporto a livello europeo. Sono nati questi progetti di ricerca, che sono fondamentalmente, oltre a realizzare linee ferroviarie sostenibili, siamo in grado di arrivare a utilizzare la traversa Green Rail per contenere sistemi. Quindi da lì nasce l'idea di Green Rail Solar, che non è nient'altro che una traversa Green Rail, che integra un pannello, un modulo fotovoltaico nella parte centrale della traversa, e quindi trasformiamo ogni chilometro di linea in un campo fotovoltaico che è in grado di produrre 600 kilowatt ora a chilometro. Questo che cosa consente? Di andare ad alimentare sistemi, o se pensate a quelli che sono i mercati in via di sviluppo, soprattutto ad esempio in Africa, noi riusciamo a portare energia in posti in cui l'energia non arriva. Arriva la linea ferroviaria, arriva il trasporto, ma non arriva l'energia. Green Rail Piezo invece è dedicata alla diagnostica della linea, quindi trasmettere in remoto quelli che sono i parametri diagnostica sia dell'infrastruttura sia dei treni. La Link Box è una solar che integra sistemi Wi-Fi per la trasmissione dei dati, che possono essere sia di telecomunicazione che di sicurezza. Questa è la mappa del brevetto Green Rail oggi nel mondo. Considerate che in questi 122 Paesi noi oggi siamo depositati e di 58 di questi il brevetto è ormai definitivo. Questi sono i premi che da quando abbiamo iniziato abbiamo ottenuto, abbiamo cominciato nel 2013 con Anzid, siamo arrivati l'anno scorso a vincere il premio sulla sostenibilità ambientale europeo. Fino al mese scorso, in cui abbiamo coronato un passo importante, siamo risultati vincitori di Sme Instrument Fase 2, che finanzierà per i prossimi 24 mesi la ricerca e sviluppo di Green Rail. Ci tengo a sottolineare l'importanza di quello che sono gli strumenti europei nel settore delle start-up, anzi approfitto per invitare quello che è l'ecosistema delle start-up ad agevolare, aiutare le start-up nuove a cercare di individuare quali sono gli strumenti migliori, perché ci sono tantissimi strumenti che la Commissione europea mette a disposizione dell'innovazione, però molte delle volte siamo noi, i giovani imprenditori, che magari non abbiamo la competenza o la conoscenza e rivolgersi a consulenti costa soprattutto per le start-up. Sme Instrument ha consentito lo sviluppo di Green Rail, noi abbiamo raddoppiato il personale nell'ultima settimana e grazie a quello che è stata la rete di partnership che siamo riusciti a mettere in moto in questi anni siamo arrivati a tutti gli obiettivi che ci hanno prefissati. Green Rail oggi è stata anche supportata finanziariamente con un investimento in ricerca e sviluppo da parte di Ecopneus, che è il più grande consorzio italiano di raccolta PFU, gestione pneumatici fuori uso, fondazione di sviluppo sostenibile e poi principalmente per quanto riguarda la ricerca vera e propria Politecnico di Milano. Oggi noi collaboriamo con nove dipartimenti del Politecnico di Milano e stiamo appena strutturando un piano industriale nei prossimi cinque anni che prevederà l'apertura del primo impianto industriale nel 2018 e per fine 2016, inizio del 2017 otterremo quelle che sono le certificazioni internazionali, quindi il superamento di tutti quei test in base a normative internazionali di settore che consentiranno di portare il prodotto sulla linea e quindi di poter, come dire, partire nell'era commerciale del prodotto Green Rail. Grazie mille. Lascio la parola a Renato Panesi di Orbit. Buonasera a tutti. Io sono Renato Panesi di Orbit. La nostra azienda è nata con lo scopo di realizzare un dispositivo in grado di riportare a terra i satelliti alla fine della loro vita operativa per consentire un accesso pulito e sicuro allo spazio e risolvere il problema che in gergo si chiama dei detriti spaziali. Allora, questa è un'immagine di come ci aspettiamo che la Terra sia vista dallo spazio. Questa invece è la realtà. In questo vizio dell'Agenzia Spaziale Europea si vede come dal 1957, anno in cui è stato lanciato il primo satellite dell'allora Unione Sovietica, ad oggi tutte le orbite operative siano estremamente affollate di satelliti che oggi sono per lo più rottami e che circolano in maniera incontrollata nello spazio. Si parla di 6.000 satelliti lanciati fino ad oggi, di cui oltre 5.000 sono in disuso. I segnali rossi che voi vedete sono le collisioni che avvengono in orbita. Ogni collisione, ovviamente, genera ulteriori detriti che a loro volta vengono incanalati in un'orbita attorno alla Terra. Ogni detrito, che può essere piccolo come una vite o grande come un intero satellite, viaggia a 25.000 chilometri all'ora ed è quindi estremamente pericoloso. Basti pensare che la Stazione Spaziale Internazionale viene spostata continuamente per evitare impatti anche con i piccoli detriti. Uno scienziato americano della NASA, che è Donald Kessler, nel 1974 ha elaborato una teoria secondo cui se non si interviene in modo attivo si può scatenare una reazione a catena che continua a provocare collisioni su collisioni, con l'effetto di arrivare a non poter più utilizzare lo spazio perché non ci saranno più finestre di lancio utili per ulteriori satelliti. Avvengono collisioni rilevanti, dove per rilevanti intendo fra due satelliti interi, mediamente ogni due anni. La più celebre è quella fra il satellite russo Cosmos 2251 in disuso è un satellite della costellazione Iridium della Motorola, che ha messo in disuso il sistema di comunicazione satellitare Iridium per diverse settimane. Questo è un video che mostra una simulazione della collisione e delle traiettorie che poi hanno preso i vari detriti, giusto per fare un esempio di quello che può succedere. Il problema dell'impatto a terra di satelliti in disuso esiste, ma è oggi altamente improbabile che ci sia un impatto su un centro abitato. Questa probabilità purtroppo è destinata ad aumentare se non si interviene in qualche modo, ma il problema immediato non è proteggere la terra, è piuttosto evitare che avvengano nuove collisioni in orbita. Alcune immagini che mostrano frammenti detriti collezionati, finestrino dello Space Shuttle colpito da una vite, radiatore dello Space Shuttle colpito da un detrito di meno di due millimetri di diametro, a detriti più grandi. Questo è un intero satellite da 8 tonnellate che dovrebbe rientrare a terra nei prossimi anni, non si sa quando, non si sa dove. Ogni giorno un oggetto rientra a terra, sono principalmente tank di propellente e grossi motori. Finora non ci sono state vittime se non una mucca in Argentina, ma il problema è cosa succederebbe se non potessimo usare più i satelliti. Fine delle telecomunicazioni per via satellitare, previsioni meteo, servizi internet via satellitare, servizi finanziari, controllo del traffico, GPS, telefonia satellitare, traffico aereo, marittimo, controllo incendi e applicazioni in agricoltura. Torneremo cioè indietro di 60 anni. Allora la soluzione non è, o almeno non siamo ancora in grado di farlo, andare a prendere i detriti che già ci sono. La prima soluzione è fare in modo che il loro numero non aumenti, quindi rimuovere ogni satellite che da oggi in poi verrà lanciato in orbita. Questo è quello che fa la nostra azienda. In questa slide vedete delle previsioni di lanci nei prossimi anni nelle varie orbite operative, low, medium e geostationary earth orbit e altri satelliti. C'è un incremento sostanziale nelle orbite basse per via di nuovi operatori satellitari che lanceranno le cosiddette megacostellazioni. Costellazioni di satelliti, parlo di 900 satelliti per one web, 4.000 satelliti per quello che vuole fare Elon Musk. Non sapremo se in realtà le costellazioni saranno così numerose, ma comunque avremo le orbite Leo sempre più affollate in maniera esponenziale. Ovviamente esistono delle regolamentazioni che i vari Paesi che hanno accesso allo spazio hanno iniziato a mettere in atto, che prevedono tutte sostanzialmente che ogni satellite lanciato in orbita da oggi in poi debba essere equipaggiato con un dispositivo attivo che lo ricorti a terra in modo controllato, quando si vuole, dove si vuole, a fine vita o in caso di un'avaria che ne pregiudichi il funzionamento. Noi facciamo proprio questo e in questo modo contribuiamo a un uso sostenibile dello spazio. Proponiamo un sistema propulsivo basato a propellente solido da integrare nella struttura di un qualsiasi veicolo spaziale, sia esso uno stadio di lanciatore o un satellite in orbita bassa o un satellite geostazionario, che deve essere attivato con un comando da terra quando è richiesto ed è in grado di riportare l'oggetto a terra o di spingerlo, se è più lontano, nelle cosiddette orbite cimitero. È un dispositivo totalmente indipendente dal veicolo ospite perché deve essere in grado di funzionare anche qualora il satellite sia completamente in avaria, è autonomo e consente un rientro controllato dove vogliamo noi in poche ore o per i satelliti più lontani in poche settimane, invece che in 25-30 anni in modo incontrollato. Questo ovviamente ha dei vantaggi economici per gli operatori che al di là del liberarsi del proprio satellite hanno risparmio nei costi di monitoraggio del proprio detrito perché una volta a fine vita il satellite può essere rimosso, hanno dei risparmi nell'assicurazione conto terzi e possono permettersi una vita operativa più lunga perché hanno un dispositivo ad hoc che li riporta a terra a fine vita. La start-up è nata nel 2011, nel 2011 abbiamo testato il motore a terra, abbiamo fatto il primo lancio nel 2013 con il lanciatore russo Dnepr della scatola elettronica che è il cervello del nostro dispositivo e a fine 2016, in realtà ce l'hanno rimandata a febbraio 2017, lanceremo D-Sat, un satellite completamente costruito, progettato e realizzato da noi, che sarà il primo satellite nella storia rimosso attivamente tramite un dispositivo attivo che ne consenta una rimozione controllata. The Orbit è nata nel 2011 ma oggi ha quattro sedi, di cui due in Italia, a Lomazia e a Sesto Fiorentino, un ufficio commerciale a Washington DC e una sede in Portogallo. Siamo 32 persone, a parte i fondatori siamo in 4, abbiamo 40 anni, però l'età media è sotto i 30. Il nostro direttore tecnico ha attualmente 28 anni. Grazie per attenzione. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Filippo Sala, coordinatore del corso di prodotto, prototipi dell'Istituto di Istituzione Superiore Ferrari di Maravello e promotore di alcune start-up legate all'autoveicolo e all'emissione zero, fondamentalmente nate sempre da progetti scolastici di questi anni. Una addirittura presenta un prodotto qui nello spazio delle Call for School. Di fronte anche alle presentazioni che mi hanno preceduto e al titolo della conferenza, le slide che ho inviato e che in qualche modo andiamo a vedere sono abbastanza libere dal mio intervento. Le slide si rifanno all'auto che è esposta sempre al padiglione 9 ed è un'auto solare costruita da una Emilia 3, è la terza di una serie, anche se poi ne abbiamo fatte molte di più. E la terza che è un po' a fine vita, nel senso che è già partita la progettazione di un cruise quattro posti solare che si presenterà, speriamo, in Australia nel 2017. Quest'auto ha fatto, vedete, i tre modelli principali con cui siamo partiti. In realtà noi abbiamo fatto alcune esperienze sul deserto australiano negli anni 90, attraversando il deserto australiano. Io ho fatto un'esperienza personale con un'auto elettrosolare, ho raggiunto il confine con l'Afghanistan e poi dopo abbiamo fatto anche alcune esperienze tipo un viaggio a Caponord e sempre in elettrico puro in ibrido solare elettrico o addirittura muscolare elettrico solare, cioè diciamo mai con ibridi termico solari, perché quello che fa impressione, anche ascoltando chi mi ha preceduto, è questo fatto qua di quanto l'autoveicolo sia primitivo rispetto a quello che sta succedendo in tutte le evoluzioni, ma non solo l'evoluzione, ma proprio nella tecnologia anche di uso consueto, cioè noi fine andiamo fuori di qua e abbiamo delle macchine termiche che ci aspettano se non è un autobus, è un autobus, a parte giusto il treno, abbiamo dei motori a scoppio, cioè abbiamo delle stufe, su cui saliamo con dei rendimenti che fanno pena, 20-22% se va bene e nessuno di noi è in grado di immaginare stasera di andare a casa se non sopra una stufa che la maggior parte del suo lavoro che fa per spostare il mio peso, che di solito magro o ciccio che io sia, insomma è tra i 70 e gli 80 kg di media, si muove con 1600-1400 kg e ci deve portare dove vogliamo andare, con un movimento di pistone, di bielle e di iniezione elettronica o quel che volete, ma che a fine della festa fa calore e non sa neanche bene dove disperderlo perché comunque è un danno e se non fa calore fa emissioni di gas e se non fa emissioni di gas ha gli attriti e comunque muove 1600 kg per spostare il mio peso. Evolve la spesa, prima regola della fisica non scritta ma che chiunque mastica un po' di energia lo sa, evolve la specie che fa lo stesso lavoro sprecando meno energia, per cui in questo momento la specie umana evolverà al minimo come almeno dal punto di vista delle tecnologie della mobilità. Questa riflessione è la falsa perché anche proprio guardando come si sta muovendo il trasporto ferroviario, come sta succedendo a tutti i sistemi di comunicazione, sicuramente qualcosina, qualcosa sta succedendo realmente positivo nel mondo dell'autoveicolo. L'autoveicolo è un fatto emozionale e questo è il suo problema più grosso, cioè è fortemente un fatto emozionale. Noi compriamo un'auto non perché ci serve per soddisfare un bisogno specifico di movimento ma compriamo un'auto perché ci piace e c'è un fatto emozionale a livelli esagerati perché tanto non teniamo presente un punto importante di questo rapporto che abbiamo con l'autoveicolo, poi arriviamo anche a capire cosa può essere il futuro o che si può rappresentare un futuro il sole appiccicato proprio materialmente alle carrozzerie dell'autoveicolo o qualcosa di più importante che è una rete, di un sistema che sulla mobilità può fare la rivoluzione quando da solo e può, come si dice, proprio strappare questo fatto emozionale dell'automobile. Ci sono dei dati positivi su questa cosa che sto annunciando, nel senso che i numeri incominciano a dare ragione al fatto che l'emozione, il fatto emozionale costa talmente tanto che probabilmente la proprietà privata dell'automobile, probabilmente il possesso del veicolo incominciano ad essere dei problemi, specialmente per le nuove generazioni, piuttosto seri e per cui non c'è nessun problema a salire con degli atti, carpooling, a prendere del car sharing, a fare del peer-to-peer, insomma ci sono dei segnali importanti che un po' distruggono almeno il monolite della mobilità individuale sull'autoveicolo. Lascio volontariamente a parte in questi miei concetti il trasporto su merci, il trasporto ferroviario, il trasporto aereo, ma comunque l'auto, in realtà l'autoveicolo è proprio quella che è rimasta più indietro, se vogliamo dire, è più primitiva in questo momento rispetto alla siate pur perdere il fatto che sia bella, colorata, che dentro abbia dei sistemi connective eccezionali che posso fare, però in realtà il cuore dell'auto si chiama motore e il motore è una macchina termica e questo è il problema. Allora, tornando un po' indietro su questa scaletta che mi sono fatto mentalmente, il concetto è il rapporto sosta-movimento, cioè l'auto è fatta non per il muoversi, ma è pensata oggi per l'uomo, cioè non è pensata per me, per me che mi muovo, perlomeno per il movimento di cui ho bisogno, la mia necessità di movimento, il mio bisogno di movimento, ma è pensata, per cui non è pensata al movimento fondamentalmente, perché fa cinque posti, ha cinque porte, ha tutta una serie di concetti che non sono legati fondamentalmente, fai 130 all'ora, cioè ci si muove sempre da soli, la velocità media europea è di 50-60 km al giorno quando va bene, nella sua vita un'auto fa delle medie nella vita totale del 30-35 km all'ora, ha un rapporto sosta-movimento da far paura, cioè è sempre ferma, ha un rapporto di spazio per cui, di inquinamento di spazio esagerato, per cui non è pensata per il movimento, per soddisfare un bisogno di movimento, so che questa cosa difficilmente la si legge, ma è pensata per me e fondamentalmente è più pensata per l'uomo e per la sosta, mi vende a dire, adesso questa è un po' una, ovviamente è una provocazione azzardata, però in realtà è questo. Cos'è che sta succedendo? Tanto in modo così mi prenda il mio, chi mi ha preceduto non mi prenda, cioè prima delle collisioni tra auto non l'ha risuolto i satelliti, ma noi la Terra l'abbiamo ancora più grande, anche se l'auto esiste, cioè prima delle collisioni a terra è ancora molto, solo il numero dei morti e l'accelerazione di questo numero dovuta all'utilizzo dei sistemi di connessione in auto, sono proprio quello che ci permette i satelliti tra l'altro, per cui c'è una strana contiguità tra avere un satellite che ci guida dall'auto e che si scontra e che mi fa scontrare in auto, mi piace questa cosa che mi ha suggerito, crea anche qua una visione. In tutti i modi, quello che sta succedendo in positivo, perché siamo qui, io sono in mezzo dei giovani, con una scuola, quello che sta succedendo in presidio è questo. Innanzitutto ci stiamo liberando dal concetto indissolubile della proprietà dell'auto, ha un costo troppo alto, 4.000-4.500 euro all'anno, non ne abbiamo sempre così bisogno, per cui ci stiamo liberando da questa idea che dobbiamo a tutti i costi avere un'automobile e questo non ne può, o perlomeno, abbiamo bisogno di muoversi bene, meglio e di più, ma non è obbligatorio che l'auto sia mia e questo è un dato molto importante. L'auto che non è mia non può essere di qualsiasi colore, può essere avere un turbo o non averlo, può avere un motore di un certo tipo anziché un altro, non ha più questa importanza fondamentale, l'importanza che da punto X mi porta il punto Y e questo è un dato che non è l'ultimo e poi, non per ultimo, che quando sta ferma, probabilmente serva anche a qualcosa, voglio dire, non è così, allora dove arriviamo a fare? Il solare, il solare sull'automobile ha già qualche applicazione, hanno già state fatte, la Toyota vende dei kit di tettucci solari che permettono di entrare con il sistema delle celle di Peltier, permettono di andare in auto d'estate con l'auto fresca senza consumare tra l'altro, poi quando partiamo il condizionatore a mille perché l'auto è un forno dove io sto andando dentro a lesso, per cui ci sono già applicazioni di celle fotovoltaiche e di celle di Peltier alle carrozzerie che permettono con le celle flessibili, con il sviluppo del silicio, poi ci sarà il grafene, poi ci saranno i polimeri, ci saranno tutta una serie di sistemi che permetteranno di uscire un po' anche dalla celle fotovoltaica intesa in modo classico, quella col silicio monocristallino ma con gli amorfi di generazione anche a rendimento più alto, per cui avrò sicuramente delle applicazioni alle carrozzerie molto interessanti. C'è già stato costruito dall'Università della Germania un'auto solare che ha fatto il giro del mondo, praticamente solo in solare, ci sono i regolamenti delle competizioni internazionate che vedete alle mie spalle, vogliono già che si vada a competere con dei cruise quattro posti che siano proponibili per la mobilità urbana e che dimostrino alla loro, ovviamente aumenterà la capacità delle batterie perché nelle prime gare solari era proibito e addirittura adesso anche la Tesla, anche tanti costruttori di auto continuano ad andare con batteria stilo e di questo che vedete nella foto e questo non è proprio così perché, sapete perché semplicemente perché costano poco perché sono quelle dei telefonini, fondamentalmente la tecnologia della comunicazione, ma questo ha permesso, ha permesso anche a Mars di Tesla di fare un'auto eccezionale, questo ha permesso, i telefonini hanno dato il via agli accumulatori ad accumulatori di terza o quarta generazione, noi le prime auto, quella con cui io sono andato a confine con l'Afghanistan era al nickel cadmio, prima del nickel cadmio c'era praticamente solo il piumo, in realtà c'erano diverse tipologie, ma il piumo che il nickel cadmio è stato per fortuna abbandonato in tempi, l'ha usato la Pesot, l'ha usato la Citro con la Saxo, Parigi aveva tantissime auto, l'hanno usato tantissime cari costruttrici, però anche lì, poi incomincio a avviarmi la conclusione, anche in quel caso erano auto derivate, cioè erano auto di posizione di serie, tradizionali, pesanti, con lo spazio per le motori, è significativo il caso della classe A Mercedes, quando nasce, che poi si rovescia con la prova dell'Alce, i più anziani di voi, ma non ne vedo molti per fortuna qua in mezzo, si ricordano che si rovesciò alla classe A, perché fece anche un po' di scalpore, perché il pianale con batteria Zebra al sodio cloruro, al nickel sodio, cioè le chiamate al sale, era stato sostituito dal motore termico perché la Mercedes aveva deciso, io le provai a Bruxelles, insomma era un'auto totalmente già di, potevano essere in produzione, e addirittura poi la prima serie, una serie per risolvere il problema del capoveggimento dell'auto, furono riempite di sabbia, mai provato, mi sono trovato in internet, ci sono testimonianze, addirittura a mettere della sabbia perché non si rovesse un'auto perché è stata tolta una batteria. Questo è un dibattito molto più complesso, io non lo voglio portare qui, mi interessa dire che il solare avrà forse in un primo momento molto più importanza per le colonnine, le tettoide ricariche, le tettoide di parcheggio, avrà più una funzione ancora esterna al veicolo e legata fondamentalmente alle ricariche, l'auto elettrica crea una rivoluzione dal punto emozionale perché permette di muoversi almeno in ambito urbano, in esturbano e anche per divertimento se vogliamo, ma in tutti i casi risolve il problema della mobilità, noi adesso stiamo lavorando molto sull'ultimo miglio, sulla mobilità leggera urbana, il quadriciclo, il quadriciclo leggero, il quadriciclo pesante, ma in realtà si potrebbe, poi comunque la Zoe, l'Ampera, il Twizzi, sto dicendo i nomi, la Life, insomma tutte auto che comunque, le case costruttrici, anche se ancora un po' troppo derivate, a parte il Twizzi, sono tutte auto che hanno comunque una tecnologia che si avvicina, poi Google Car, l'Apple incominciano a parlare di auto, guida robotica rigorosamente elettriche in cui si risolve anche il problema ancora di più che io vado sull'auto per star bene, per leggere, per scrivere o per parlare con i miei amici e non per preoccuparmi di guidare dove gli incidenti, le collisioni sono ridotte al 75%, diventa interessante. Il passo successivo per cui è un'auto che probabilmente avrà una carrozzeria interattiva, che può produrre anche energia, un vestito, chiamiamolo vestito più che carrozzeria, avrà al suo interno probabilmente, sarà ibrida, ma non ibrida termica, perché l'ibrido termico non ha senso, cioè l'ibrido termico può, aiuta in questa fase ad addomesticare un mercato a convincere un po' l'elettrico, c'era un motore grande termico e un piccolo motore elettrico, è cresciuto il motore elettrico, si è ridotto il termico, le batterie erano semplicemente per fare l'avviamento, adesso fanno qualche chilometra autonomia, adesso le batterie hanno il plug-in e è apparsa una spina, pianino pianino, comunque il messaggio che sta arrivando anche dall'ibrido termico elettrico è di spostarsi verso l'elettrico e il problema della massa nelle automobili non si sta risolvendo, la nostra auto è comunque un'auto che ha motori in ruota, che vedete, motore applicato in ruota ha 200 kg, fai 140 km all'ora, è chiaro ha una superficie espositiva esagerata, poi l'ultimo passo, e qua chiudo davvero, è anche in questo trasferimento tecnologico che viene da queste competizioni, queste competizioni solari hanno realmente un trasferimento tecnologico, perché per esempio i motori in ruota di prima in fibra di carbonio non li stiamo facendo con l'idea di applicarli a un quadriciclo e le novità sono alcuni progetti della Nissan, credo anche della, sicuramente forse anche della Ford, ma non vorrei sbagliarmi, sono il vehicle to grid, cioè io, qui vi faccio una piccola parentesi, ma veramente velocissima, io ho un'auto elettrica media, un'auto a emissione zero con movimento trazione elettrica e accumulatore a mediamente 20-20 kWh di energia a bordo, tenete presente che un serbatoio ha un'energia di benzina, un'energia pazzesca a bordo che vi portate in giro, per cui arrivo a casa, domani devo fare solo un percorso che mi prende 4 kWh, io con la macchina carico la casa, cioè do energia alla casa, vehicle to grid, cioè nel senso che la spina è bidirezionale, decide lei con l'algoritmo se carica la batteria o se fa andare la lavastoviglia, la lavatrice o il tv di casa e poi si ricaricherà in un attelettorio fotovoltaico o con le celle fotovoltaiche applicate alla carrozzeria il giorno dopo al lavoro quando la lascio ferma a 7 ore. Grazie. Grazie, grazie davvero Filippo, sei stato efficace e fuori dal tempo come sempre, però insomma ci hai fatto viaggiare di un futuro davvero già presente. Abbiamo pochi minuti perché noi abbiamo slot sempre di un'ora e il primo talk è iniziato più tardi, ne approfitto per farvi la domanda che faremo in questi due giorni e che rimarrà agli atti del nostro canale Maker Faire, lo faccio a tutti e tre, quindi approfittando di questi minuti, what's next, dal vostro punto di vista dove andremo in un futuro già presente, quali sono le prospettive, ma proprio flash in un minuto dai vostri tre ambiti, da tre storie di mobilità e se volete insomma di mondi diversi. Auto di non proprietà, auto ibrida, fuel cell, idrogeno piccolo come l'autore di litio perché lì c'è una materia prima molto importante, auto che arriva in base a uno smartphone e mi fa fare il percorso prenotato che a me serve e i flussi di traffico gestiti non in base alla scelta mattutina di un'automobilista che alla sera magari è come me che non è neanche andato a letto, ma forse di traffico gestiti da sistemi che tengono conto di pedoni, di ciclisti, di automobilisti, degli aerei, di tutto. Grazie. Grazie, grazie Filippo. Giovanni. Sicuramente per quanto riguarda il nostro settore, il futuro del ferroviario che è già partito è la sostenibilità ambientale, l'IoT, l'Internet of Things. Oggi si parla di smart city e sicuramente sempre più in futuro si parla di smart rail, quindi la trasformazione di quelle che sono infrastrutture oggi passive, infrastrutture attive in grado di essere connesse con tutto il resto della mobilità oltre a quella ferroviaria. Sicuramente. Grazie Giovanni. Green Rail. Renato Panesi di Orbit. Secondo me come le auto non di proprietà e presumibilmente senza guidatore saranno una commodity, anche lo spazio sta tendendo a diventare una commodity. Io ho avuto la fortuna due settimane fa di assistere live alla conferenza di Elon Musk in cui ha annunciato quando e come andranno su Marte. Lui lo fa. La strada è tracciata, la tecnologia c'è, è soltanto questione di reperire fondi. È una cosa che si può procrastinare nel tempo ma prima o poi succederà e presumibilmente nel prossimo decennio. Anche Obama ha dichiarato nel 2030 andremo e torneremo. Quindi fra cento anni secondo me colonizzeremo lo spazio. I voli commerciali suborbitali diventano una realtà l'anno prossimo con Virgin Galactic, con Blue Origin. Quindi il pronostico tra cento anni sorvoleremo lo spazio. Tra cento anni avremo una colonia su un altro pianeta. Grazie. Grazie Renato Panesi di Orbit. Grazie Giovanni Delisi Green Rail. E grazie a Filippo Sala Ferrari Solare. Grazie a Filippo Sala Ferrari. Grazie a Filippo Sala Ferrari.